Ciao e benvenuti! In questo video parleremo di una posizione davvero molto molto efficace per ridurre subito il dolore alla colonna lombare. In questo caso si potrebbe trattare o di una semplice lombalgia oppure di una lombosciatalgia, quindi interessamento anche del nervo sciatico con dolore non solo a rachide lombare ma anche a tutta la gamba fino al piede o a volte anche solo fino al ginocchio. Almeno un evento nella vita è capitato a tutti o capiterà. Ci procuriamo due cuscini io direi uno barra due non di più perché è sempre una posizione che deve essere controllata da un professionista quindi vi consiglio in primis di rivolgervi sempre al medico ad un professionista. Allora ci mettiamo su un lettino e cosa andremo a fare? Sicuramente in questo momento avrete tantissimo dolore o sotto cura farmacologica sarà un po' diminuito. Dobbiamo stare molto attenti a tutte le posizioni che vengono adottate. Questa fase è davvero molto molto delicata. Lavorate sulla respirazione abbiamo fatto degli esercizi su altri video inerenti proprio alla respirazione sulla retroversione del bacino quindi vi consiglio di lavorare su quello indirettamente sulla colonna. Iniziamo a prendere un cuscino. Vanno bene i cuscini che usiamo praticamente per dormire quindi quelli sono molto utili. Se vi recate in uno studio sicuramente avranno i lettini proprio adatti. Naturalmente partite dalla posizione seduta ci andremo a mettere prima lateralmente quindi in questo modo mi raccomando di fare peso sempre sul resto del corpo di toccare il meno possibile la zona dolente. Andiamo lateralmente. Dobbiamo posizionare il nostro cuscino sotto la pancia quindi proprio sotto il nostro bacino tra il sacro e la zona lombare. Quindi lateralmente ci andremo a posizionare sopra, stendiamo le gambe lentamente, ruotiamo, non inarchiamo troppo ma stiamo sempre con la testa giù, scenderemo, le braccia come vi trovate più comodi, cioè dovremmo posizionarle lateralmente al tronco, la testa va prima da un lato e poi la ruoteremo dall'altro. Iniziamo a respirare, quindi il cuscino si trova in questa zona, la colonna lombare e il sacro, il bacino. Vi ricordo di non mantenere a lungo questa posizione. I piedi sono rilassati, soprattutto i gluti devono essere rilassati quindi non facciamo questo movimento ma teniamo i talloni verso l'esterno per rilassare il gluteo. Questa posizione va mantenuta per circa 5 minuti. Respiro, ruotiamo la testa anche dall'altro lato. Vi ricordo che questa posizione è molto benefica ma non è da mantenere per tutta la notte. Ho sentito di pazienti che hanno mantenuto questa posizione per dormire. L'importante è cambiare la posizione, quindi anche piegare un ginocchio, mettersi un po' lateralmente, lentamente ruotare dall'altro lato. Non manteniamo assolutamente una posizione fissa, soprattutto quando c'è un'infiammazione in corso. Quindi diamo modo alle articolazioni di creare un piccolo gioco. Allora, fatto questo, voi vi procurate un altro cuscino se volete, altrimenti potete rimanere con uno. Vi faccio vedere con l'altro cuscino. Lo andremo a posizionare sopra l'altro, quindi in questo modo, sempre non dando peso alla colonna ma utilizzando le braccia e le ginocchia. Abbassiamo un po' il cuscino, ci andiamo a posizionare con la nostra pancia sopra, lentamente ruotiamo, andiamo giù, ci posizioniamo. I piedi sono rilassati come anche i gluti, quindi i talloni verso l'esterno e anche qui la testa va prima da un lato e poi dall'altro respiriamo profondamente. Come avete notato si deve creare proprio una piccola curva, quindi dobbiamo portare la colonna in una leggera flessione. Potrete notare che il dolore dal piede, ad esempio, o dal ginocchio inizia a centralizzarsi, quindi significa che regredisce, inizia a tornare dietro, quindi al suo punto di origine. Questa è una cosa importantissima perché significa che la colonna sta iniziando appunto a reagire a questo stimolo, quindi assolutamente positivo. Se invece in questa posizione notate un peggioramento vi consiglio assolutamente di non praticarla. Al contrario, come vi ho detto prima, invece state facendo in maniera giusta. Respiro, anche questa posizione non è da tenere per molto tempo. Deve essere tutto molto graduale. La testa la ruotiamo prima da un lato e poi dall'altro. Siamo rilassati. Allora, lo faremo anche questo per 5 minuti, non di più. Quando iniziate a sentire che il dolore arriva al centro, allora potete abbandonare questa posizione lentamente. Quindi iniziamo a togliere prima un cuscino e poi l'altro. Quindi andiamo lateralmente, ci poggiamo su un gomito senza fare un eccessivo movimento. Togliamo un cuscino e ci poggiamo lentamente sull'altro senza inarcare la schiena. Andiamo giù, stessa cosa, braccia lungo i fianchi, ruotiamo prima da un lato e poi dall'altro la testa e stiamo anche qui 5 minuti. Dopodiché, passati 5 minuti, ci solleveremo prima lateralmente, pieghiamo prima un ginocchio e poi l'altro. Mi raccomando, piegate sempre le ginocchia quando vi dovete sollevare in caso di lombalgia. Ci solleveremo lentamente, lentamente. Stiamo un po' seduti sul letto. Questa è una posizione, ripeto, davvero molto molto efficace quando c'è un forte dolore. Quindi subito può spegnerlo. Vi consiglio di utilizzare all'inizio un solo cuscino, poi due e non di più. E lentamente e gradualmente di eliminare un cuscino alla volta. Evitate tutti i movimenti troppo bruschi o movimenti di estensione della colonna. Cercate sempre di mantenere addome contratto e il bacino sempre in una posizione neutra, ma più di retroversione, in modo da proteggere la colonna. Seguite la vostra cura farmacologica, seguite gli esercizi di respirazione, fatevi seguire da un professionista e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!